Allora oggi dedichiamo le tre ore a parlare di javascript essenzialmente, partendo grosso modo da zero faremo un salto fino ad arrivare a costruire delle pagine web dinamiche, nel senso che l'utente possa interagire col contenuto della pagina web e non solamente cliccare sui link o inviare dei form che erano le uniche due cose che potevamo permettere ai nostri utenti di fare finora, per cui il web era nato per quello. E quindi riusciremo a fornire all'utente una modalità alternativa rispetto al modello di interazione standard dell'HTML. La pagina HTML che abbiamo fatto finora, l'unica modalità che ha l'utente per interagire è chiaramente giocare con gli elementi di un form, selezionare un link oppure inviare un form, altrimenti la pagina è morta, è statica. E a parte questo, il problema è che ogni volta che l'utente clicca su un link, l'unica cosa che può fare il server è rigenerare da zero completamente una nuova pagina. Allora nel caso in cui le pagine siano complesse, questo processo è lento, no? Perché non è tanto il tempo che ci mette il server a rigenerare la pagina, che potrebbe essere anche, diciamo così, più rapido, più ottimizzato, ma il fatto che il browser ricomincia da capo una pagina nuova, che poi magari è identica a quella precedente tranne una virgola, tranne il fatto che si è aggiunto un messaggio a quelli precedenti. Però comunque devi calcolare tutto, vedere se le immagini sono cambiate, impaginare la pagina e così via. E quindi crea una discontinuità nella interazione dell'utente. Mentre invece siamo abituati e diciamo pretendiamo che le applicazioni web facciano una certa serie di funzioni, di cui qua ho indicato solamente le più frequenti, no? Quelle di cui non potremmo più fare a meno. Ad esempio nel momento in cui riempio i dati di un form è molto scomodo inviare il form per poi trovarsi su una pagina successiva l'elenco degli errori che hai compiuto, che è l'unica cosa che siamo in grado di fare adesso. Sarebbe molto meglio bloccare l'utente dicendo guarda no, ma è inutile che tu schiacci su submit, sul bottone di invio, perché non hai messo il nome? Perché devo farti schiacciare sul bottone di invio affinché poi il server rigenere quel form e dica guarda che non hai messo il nome, quindi non ti posso eseguire la richiesta. Però per poterlo fare dovremmo fare in modo che la pagina web, che il browser, nella pagina web, prima di lasciare quella pagina, nel momento in cui l'utente prova a premere il bottone di invio, intercettare quel bottone, quella pressione e dire aspetta un attimo. Andiamo a vedere se i dati sarebbero pronti per essere inviati, perché se no disabilitiamo quella funzione di quel bottone. Quindi questo richiede chiaramente di avere dell'intelligenza a bordo della pagina. Il browser non lo può fare d'ufficio. Che ne sa il browser se quel campo è obbligatorio oppure no? Con HTML5 sì, lo potrà sapere, nel senso che ci sono degli attributi in più proprio per specificare queste cose. Quindi molte cose che adesso dobbiamo farci a mano in JavaScript verranno fatte automaticamente dai browser. Ma con HTML4 il browser non lo sa. Submit vuol dire invia ciò che c'è, che ci sia o che sia vuoto. E quindi bloccare l'invio dei for non validi, mostrare in tempo reale immediatamente, addirittura mentre scrivo se ci sono degli errori oppure no. Se nello username inserisco un caratter non valido, magari che non so, lo spazio per registrarsi il username, me lo scriva subito, nel momento stesso in cui premeremo lo spazio, che quello è un carattere non valido. O altre operazioni, tipo quelle di avere, non so, in una pagina, immaginate un modulo complesso da compilare, le istruzioni per la compilazione. Le istruzioni per la compilazione siamo abituati a vederle sotto forma di, diciamo di riquadri che possiamo far comparire o scomparire. Poi che questi riquadri, diciamo così, vengono in sovrimpressione sulla pagina precedente, oppure a fisarmonica aprono la pagina e si inseriscono in mezzo, questa è una questione solamente di fogli di stile, di come vogliamo formattare quel div. Però sul controllo dell'utente, cliccando in opportuni punti, alcune parti della pagina che ci sono già, vengono mostrate o nascoste. Anche questa è una cosa, mostrare o nascondere una parte di una pagina è banale, basta modificare una proprietà del CSS, però ci vuole qualcuno che la modifichi questa proprietà, che sappia quando farlo. Allora, questi sono se vogliamo gli esempi più semplici di applicazioni o funzionalità da cui non possiamo fare a meno. La soluzione inevitabile è quella di fare in modo che il browser sia in grado non solamente di visualizzare una pagina secondo lo standard dell'HTML, punto e basta, ma che una volta che la pagina è stata caricata, l'autore della pagina possa inserire all'interno di questa pagina dei comportamenti programmabili, cioè inserire dentro la pagina del codice che il browser eseguirà in un qualche linguaggio di programmazione, in modo che poi il browser possa eseguire queste istruzioni dopo che la pagina HTML è stata caricata. Deve essere codice scritto dal programmatore, perché il browser non sa che cosa dovrà fare quella pagina, quale sarà il bottone su cui devo cliccare se voglio mostrare le istruzioni del modulo complicato che sto per riempire, o quali sono i criteri di validazione di quella casella di testo. Deve essere il codice che l'autore dell'applicazione deve essere in grado di scrivere e infilarli dentro. Quindi questo, se ci pensiamo, rischia di essere un problema come minimo di sicurezza o di fiducia. Vuol dire che tutte le volte che voi navigate su un sito, non state solo scaricando l'HTML con tante belle immagini e tanti bei colori, ma quando cliccate su una pagina vi state scaricando un pacco così di codice sorgente in JavaScript e il vostro browser si mette a eseguirlo istruzione dopo istruzione. Questo JavaScript può fare qualunque cosa, potrebbe fare qualunque cosa. E quindi magari facciamo sempre molta attenzione a non scaricare, installare sul computer programmi che non conosciamo, in realtà basta semplicemente visitare un sito web che il nostro computer si mette a eseguire codice che l'autore di quel sito ha iniettato nelle pagine HTML. Per fortuna a questo c'è un primo tipo di protezione, nel senso che questo programma, questo argente JavaScript non può fare ciò che vuole, non è il controllo completo della macchina, ma ci pensa il browser a dargli solamente accesso ad alcune informazioni, tipicamente accesso alle informazioni della pagina in cui quello script risiede. Ma questo lo vedremo più in dettaglio. Quindi di fatto questo codice viene eseguito in un contesto protetto. A meno di bacchine, i browser che poi gli hacker e i creatori di virus sono bravissimi a scoprire, quel codice JavaScript non può andarvi a leggere un file da hard disk o cancellarvelo. Ma non può neanche sapere che cosa avete se avete 3-4 finestre aperte nello stesso browser, non può neanche sapere che cosa avete aperto nelle altre finestre. Se no ci andrebbero a nozze i pubblicitari nel sapere quando siete su un sito quali altri siti state visitando. Allora, questa figura ho provato a riassumere ciò che succede, cercando di portare, di ragionare sulla realizzazione, sull'implementazione di quest'idea. Facciamo in modo che dentro l'HTML ci sia anche del codice eseguibile. Eseguibile in realtà in modo interpretato, non in modo compilato, ma fa pochissima differenza a noi. Allora, io qui ho mostrato sulla parte di destra il server, sulla parte di sinistra il client, il browser. Il server sappiamo già, adesso a parte che su questa slide c'è scritto PHP, noi usiamo JSP, non cambia nulla come architettura. Noi come creatori del sito ci scriviamo un'applicazione che è un miscuglio, già adesso è un miscuglio di linguaggi diversi, perché scriviamo dell'applicazione che sono un po' scritte in Java, un po' in JSP, poi in HTML e CSS, non vuoi mica dimenticarle, sapendo che poi dentro ci sono anche delle istruzioni SQL. Allora, tutti questi vari linguaggi vengono mangiati sul server, vengono elaborati sul server, nel senso che la prima cosa che se ne va sono le query SQL che vanno verso il database e poi li interprete PHP o JSP, interpreta le istruzioni JSP e genera ciò che esce fuori dal server finora e ha sempre solo HTML. Vabbè, poi i fogli di stile, ma sono un paio statici quelli. Quindi tutti questi linguaggi ciò che esce dal server è solamente l'HTML. JavaScript invece è un linguaggio che ovviamente dovremmo scrivere noi le istruzioni, ma il server viene ignorato dal lato server. Per il lato server un file JavaScript è come fosse un'immagine, è come fosse un foglio di stile. È un file che lui deve prendere e trasferire. Non sicura di capirlo, di interpretarlo, di elaborarlo. Semplicemente quando noi mandiamo una risposta al browser, insieme all'HTML verrà anche spedito una copia del codice JavaScript. Quindi il server non lo vede, noi lo scriviamo dentro le pagine JSP, lo scriviamo nel server, ma il server nel senso di Tomcat, se ne frega, no? Legge, non interpreta minimamente i codici JavaScript. Quindi la novità è che nel browser, quindi nella nostra finestra del nostro browser, arriveranno oltre ai fogli di stile, le immagini, insomma i dettaglini che già conosciamo, di fatto del browser si vede arrivare due file, o meglio, un file che combina due tipi di contenuti. Combina con opportuni tags. Il contenuto principale è l'HTML e poi c'è un contenuto accessorio che è del codice JavaScript che chiederemo al browser di eseguire nel contesto della pagina HTML corrente. Cosa succede dentro il browser? Il browser come prima cosa separa queste due componenti che gli sono arrivate e le ha tratte in modo diverso. Quindi queste due colonne, quella di sinistra e quella di destra, sono due metà del browser. C'è una parte del browser che è la parte classica. La parte classica prende un file HTML, lo legge, lo interpreta, interpreta i tag HTML, interpreta, non guardate per il momento questa scatola che si chiama DOM, la affrontiamo dopo perché è la parte complicata del tutto. Legge l'HTML, lo interpreta, interpreta i tag e con opportuni algoritmi di rendering, quindi di fatto sa quanto sono grosse le immagini, quanto sono grossi i font, come deve essere impostato le proprietà display, il float, tutto ciò che sappiamo sul layout delle pagine e come risultato finale disegna la pagina web su una finestra a livello di sistema operativo. Che sia una finestra di Windows o di MacOS, ovviamente le primitive a basso livello che deve usare il browser saranno molto diverse, ma l'effetto è che all'interno della finestra lui disegna il contenuto della pagina. Il contenuto della pagina lo disegna chiedendo al sistema operativo di posizionare test e immagini nei punti opportuni, punti opportuni che lui ha deciso sulla base dei suoi algoritmi di rendering, di layout, di visualizzazione, eccetera, i quali a loro volta sono guidati dal contenuto dell'HTML. Dal punto di vista pratico, dal punto di vista informatico, normalmente le due fasi di lettura dell'HTML e di rendering della pagina sono abbastanza separate. Normalmente la parte iniziale del browser legge HTML e si crea delle sue strutture dati, degli oggetti interni che rappresentano l'HTML che ha letto, il parsing, la prima parte del lavoro che fa un compilatore, e poi il motore di rendering va a interrogare questo modello e a generare gli elementi di interfaccia grafica, in questo caso 2D. Come, quale sia questo formato intermedio che usa il browser internamente, formato in cui convertire l'HTML e da cui puoi partire per fare la visualizzazione della pagina, non ci interessa, o meglio, fino ad oggi non ci è mai interessato. Fino a qua, nulla di nuovo. Sappiamo che nella finestra vanno a finire delle informazioni impaginate secondo le istruzioni, i dettami dell'HTML e dei fogli di stile. Cosa succede invece nel ramo destro? Nel ramo destro ci sono dei file scritti nel linguaggio JavaScript che contengono delle istruzioni e dentro il browser c'è un secondo interprete, il primo interpretava l'HTML, il secondo interprete è il linguaggio JavaScript. Interprete nel linguaggio JavaScript significa che è in grado di leggere ed eseguire le istruzioni, questo è un linguaggio interpretato, quindi le istruzioni vengono lette ed eseguite una ad una, non è come Java che viene compilato in file binario .class e poi dopo vengono eseguiti questi ultimi. Vabbè, linguaggio interpretato non c'è nulla di strano. Questo linguaggio interpretato deve, non lo usiamo per fare dei calcoli, non lo usiamo per salvare dei file sull'hard disk, lo usiamo per modificare, arricchire il comportamento della pagina web. Per cui l'utente, cosa succede? L'utente interagisce con la pagina web, sulla finestra che è aperto, in cui gira il browser, e alcune delle azioni dell'utente vengono in qualche modo sentite dall'interprete JavaScript e quindi quando l'utente fa alcune cose, sposta il mouse, clicca in certi punti, viene attivato il codice JavaScript che, di conseguenza, cosa può fare? Può modificare i contenuti di qualche altra parte della pagina. Quindi l'utente e il JavaScript comunicano mai direttamente. Comunicano sempre perché l'utente pacciocca sulla pagina e il JavaScript a sua volta modifica il contenuto della pagina. E quindi di fatto l'utente interagisce con una pagina che è, fatemi usare, intelligente, attiva. Attiva forse è meglio. Il problema è, dal punto di vista dell'architettura software, questo codice JavaScript, come fa? Vabbè, a capire le lezioni dell'utente, ma questo serviranno dei metodi apposta, ma soprattutto a capire cosa c'è sulla pagina e a modificarlo. Potrebbe agire in due modi diversi. Stiamo facendo il ragionamento che fecero quando inventarono questo tipo di soluzione. Da un lato potrebbe, il codice JavaScript potrebbe agire direttamente modificando il file HTML ricevuto dal browser. Se c'è un bottone di submit e io voglio che quello non funzioni, vado a prendere l'HTML e tolgo quell'input. O lo sostituisco con qualcun altro che non faccia danno. Che abbia lo stesso aspetto, ma che non faccia il submit. Quindi, dal punto di vista del JavaScript, che gira dentro il browser, il sorgente HTML della pagina è disponibile. È uno stringone lungo 50.000 caratteri, ma c'è. Quindi, se volessi, potrei tranquillamente andare a prendere quello stringone che ho ricevuto dal server e dire, beh, andiamo a cercare dov'è in quella stringa. Io propisco vedermelo come una stringa lunga, piuttosto che non con una pagina scritta, perché poi è così che lo vede il JavaScript. Quella stringa che comincia qua e finisce tre aule più in là, dove c'è scritto input type uguale submit, di quel bottone giusto, e andiamo a modificarlo. Ci viene paura a pensare a una cosa di questo genere. Un file che può essere lunghissimo, io devo andare a rimpiazzare un pezzettino, devo prima di tutto trovarlo. Trovare quello giusto, perché magari i bottoni di submit in quella pagina ce ne sono otto. E poi devo fare attenzione che chi l'ha scritto, l'ha scritto cosa, con gli apici doppi, con gli apici simili, con lo spazio, andando a capo, perché se io vado a cercare un sottostringo all'interno di una stringa, devo beccarla esattamente precisa, se no non lo troverò mai. Quindi, in più, decidendo di essere masochista e fare così, cosa succede? Che io potrei modificare l'HTML, magari modifico solo 10 caratteri di quell'HTML, ma il browser non lo sa, la parte sinistra del browser non lo sa. L'interprete dell'HTML dice, oh cavolo, qualcuno mi ha modificato l'HTML su cui stavo lavorando, aspetta un attimo, dovrò rifare il rendering e aggiornare la finestra, senza aver modo di sapere che cosa è stato modificato, perché lui è al posto di una stringona di 50.000 caratteri, ne vede un altro da 48.997, perché ho tolto dei pezzi, però non lo sa quali, e quindi ricomincia da capo di fare il rendering. È brutto per chi scrive il JavaScript, è brutto per il browser. Si può fare, ma non nessuno lo fa. Tecnicamente lo possiamo fare, ma non si fa mai. Allora, dove posso agire per modificare il contenuto della pagina, abilitare o disabilitare questo bottone di submit? Potrei agire direttamente sulla finestra dell'utente. In fine dei conti, quel bottone di submit è un elemento di Windows o di Mac OS che è stato messo lì dal browser. Allora, se io avessi permesso di farlo, il browser l'ha messo e io lo tolgo, oppure lo disabilito. Potrei agire a livello di sistema operativo, direttamente sulla finestra del sistema operativo. Però non sarebbe una buona idea, perché vorrebbe dire che questo codice JavaScript che scrivo sarebbe fortemente dipendente dall'implementazione di un sistema operativo e del browser che sta girando su quel sistema operativo, perché poi browser diversi potrebbero usare oggetti diversi a livello di sistema operativo, di toolkit grafico, e chi più ne ha più ne metta. Quindi anche questo non ci piace, perché la portabilità doveva finire poi. Allora, cosa ci rimane? Sull'HTML non vogliamo agire, sulla finestra di uscita non vogliamo agire, agiremo, vogliamo, vorremmo agire sulla rappresentazione interna che il browser fa della pagina HTML. Quindi per i suoi scopi, ma dal primo browser che è stato scritto, prima ancora che si diventasse JavaScript, i browser internamente sono fatti così, dicevamo, interpretano HTML e creano una struttura dati interna, diciamo un modello oggetto interno, che rappresenta appunto, se avete scritto table, ci sarà un oggetto che rappresenta la table e le proprietà di questo oggetto vengono pescate dagli attributi dell'HTML table, di fatto. E poi, navigando questi oggetti, riesce a fare layout il rendering. Tutti i browser lavorano così. Allora, sarebbe molto più comodo se il codice JavaScript potesse avere accesso a questi oggetti qui. In cui allora dico, questo è un modello oggetti, allora vado a cercare qual è l'oggetto di tipo input che magari ha quel nome e messo in quel form. Navigando una gerarchia di oggetti è molto più facile che non andare a cercare la cieca in una string. E se voglio abilitare o disabilitarlo, vado a modificare le proprietà di quell'oggetto lì e modificando le proprietà di quell'oggetto il motore di rendering se ne può accorgere subito che è cambiato, che io ho cambiato qualcosa. Ma sa anche che cosa ho cambiato, non deve ricominciare da capo, sa che ho cambiato quella proprietà di quell'oggetto lì e quindi lui rifarà in modo incrementale il rendering di quella parte della finestra. E ci penserà lui a tradurre a livello di sistema operativo o cosa deve essere modificato sugli oggetti del toolkit grafico. L'unico inconveniente, ragionando come se ragionassimo 15 anni fa, è che i vari browser usano strutture di dati interne che sono diverse tra di loro. Cioè mica glielo impone la legge che debbano usare la stessa struttura di dati interne. La Microsoft quando ha fatto Internet Explorer, la Netscape quando ha fatto la prima versione nel suo primo browser, Opera, Chrome, eccetera, usano tra l'altro anche linguaggi di programmazione diversi, chi glielo dice che devono usare lo stesso esattamente tipo di oggetti. Io invece però voglio avere lo stesso tipo di oggetti, la visibilità sullo stesso tipo di oggetti, perché il mio codice JavaScript voglio che giri in modo più possibile uguale, identico, sui vari browser. Allora, cosa è stato fatto? Tanto per chiudere questa digressione, è stato definito un modello oggetti standard che i browser, la parte di rendering del browser, deve far finta di implementare, che tutti i browser devono far finta di implementare. nel senso che è un'interfaccia con una serie di oggetti visibili al sorgente JavaScript e questa interfaccia è stata standardizzata col nome di DOM, DOM sta per Document Object Model, modello a oggetti del documento. Poi ciascun browser è libero di far sì che gli oggetti del DOM, quelli standard, li usi, cioè vengono usati anche da lui internamente per fare il rendering, oppure ne usa degli altri, questi qui sono solamente oggetti di facciata. Non è un problema nostro, è una scelta implementativa di chi realizza i browser. Ciò che noi sappiamo è che noi abbiamo, avremo a disposizione degli oggetti, che siano o non siano quelli veri del browser, non ci interessa, degli oggetti che rappresentano il contenuto della pagina web. Ci sarà un oggetto che rappresenta la casella di input, ci sarà un oggetto che rappresenta il form, ci sarà un oggetto che rappresenta un paragrafo di testo, ci sarà un oggetto che rappresenta l'immagine e così via. E questi oggetti saranno collegati tra di loro, così come sono annidati questi vari elementi HTML nel sorgente HTML stesso. Quindi, cosa fa il codice JavaScript? Viene eseguito e il 90% del suo lavoro è quello di andare a interagire col modello oggetti del documento che rappresenta il contenuto della pagina corrente di quella parte di pagina lì, di quella finestra lì, e lo può leggere o scrivere a suo piacere, a suo piacimento, aggiungendo e togliendo dei pezzi, modificando le proprietà, modificando delle scritte, cambiando le immagini, che cambiare le immagini significa modificare l'attributo SRC di un oggetto immagine, quindi significa modificare una proprietà, sapendo che il motore di rendering ha le orecchie drizzate e ogni piccola modifica che il codice JavaScript farà al DOM, alle proprietà di anche uno solo di questi oggetti, ogni piccola modifica, questo ha le orecchie dritte, se ne accorge e aggiorna istantaneamente, tempo qualche millisecondo, aggiorna la finestra dell'utente. Quindi questo è il nostro modello di programmazione. Stiamo scrivendo del JavaScript che verrà eseguito nel contesto di un browser, è abbastanza cieco questo codice, non può parlare direttamente con l'utente, non può scrivere direttamente sul file system, non può, può solo interagire con questo DOM, con questi oggetti qua. E può, quest'altra freccia ci dice, in realtà non è solamente di questi oggetti, ma può anche venire a sapere alcune delle azioni che l'utente fa. Sposta il mouse, clicca in un punto, si scrive in una lettera, un carattere, questo viene informato. Però è estremamente controllato il tipo di interazione diretta che il JavaScript può fare con l'utente. Va bene. Quindi, prima di poter scrivere la prima applicazione utile, primo esempietto, dobbiamo prima di tutto capire la sintassi, il linguaggio JavaScript, come si scrive, come si scrive le istruzioni, ma questa è la parte più facile. A parte una stranezza, tutto il resto ci sembrerà abbastanza naturale. E due, come sono fatti questi oggetti del DOM? Adesso, sono degli oggetti, avranno delle proprietà, avranno dei metodi, avranno delle relazioni di ereditarietà, dobbiamo un attimo andare a vedere come sono fatti per poterli usare. Ma è una libreria, così come diceva, ma c'è la libreria Java.SQL che contiene 3, 4, 5 oggetti, una volta che vai a vedere e leggi la documentazione, capisci come usarli. La stessa cosa vale per il DOM. Sapendo che però questi oggetti in realtà sono legati a filo doppio in tempo reale con ciò che l'utente vede, per cui è un pochino più divertente che non fare le query in SQL. Allora partiamo dal linguaggio JavaScript che in realtà la prima cosa da sapere è che non si chiama JavaScript o meglio il nome ufficiale di questo linguaggio è ECMAScript che ovviamente ha delle difficoltà di pronuncia perché sembra ma perché è stato standardizzato da un ente di standardizzazione svizzero che si chiama ECMA. Il nome JavaScript è un incidente di marketing nel senso che questo linguaggio è stato sviluppato nel 95 sono quasi 20 anni un po' più di 15 anni nella versione 2.0 o 2.1 se non sbaglio del browser Netscape che voi probabilmente siete troppo giovani per l'avere mai usato era il browser che era il predecessore di quello che oggi chiamiamo Firefox è stato il primo browser a larga diffusione su internet prima ancora che la Microsoft si inventasse Internet Explorer non c'era ancora Internet Explorer c'era stata la prima versione di Netscape si chiamava Netscape Navigator versione 1 poi c'è stata una versione 2 poi la Microsoft finalmente si è svegliata ha fatto Internet Explorer e l'ha chiamato versione 3 la prima versione che ha fatto per dire c'era una guerra abbastanza forte di marketing ma c'è ancora allora nella versione 2 i progettisti di Netscape che erano 4-5 persone sono nati in 2 la società è stata fondata con 2 persone che erano uscite da un centro di supercalcolo americano NCSA ma non stiamo a fare la storia anche se è molto divertente interessante hanno capito che dentro a un browser serviva un linguaggio di programmazione Tim Berners-Lee quando ha standardizzato l'HTML non ci ha pensato minimamente o non so magari l'ha pensato ma non era assolutamente negli standard del web il fatto di avere un linguaggio di programmazione questi qua di Netscape hanno detto per fare qualcosa di carino di funzionale di usabile ci serve qualcosa in più e allora si sono inventati su due piedi una prima bossa di linguaggio e l'hanno ficcata dentro il loro browser poi dovevano pubblicizzare questa cosa e hanno trovato hanno inventato un nome per questo linguaggio e l'hanno chiamato javascript perché l'hanno chiamato javascript beh script perché è un linguaggio interpretato di scripting si dice in gergo java perché proprio in quegli anni la Sun Microsystems stava cominciando a pompare fortemente il linguaggio java che hanno sviluppato hanno brevettato non era scontato come adesso il fatto che java funzionasse bene lo stavano facendo grossi sforzi allora questi qua da Nescape che erano quattro gatti hanno detto prendiamo un nome che somiglia a java così la gente che non è che capisca tanto soprattutto i decisori i manager le vedono javascript e in qualche modo lo associano con tutti i milioni di dollari che la Sun sta mettendo sulla pubblicità del nome java e diventiamo famosi più in fretta e così è stato infatti questo linguaggio si chiama javascript ma non ha nulla a che vedere con il linguaggio java tanto per confonderci di idee poi le cose si sono poi evolute anche la Microsoft si era già conto che questo era una buona idea ha implementato un suo linguaggio copiando quello della Nescape ma l'ha chiamato j script non javascript per non fargli un favore forse era abbastanza simile ma non uguale finché al certo punto su queste qui squiglie si sono messi d'accordo e hanno detto vabbè standardizziamo un linguaggio in modo che è l'interesse degli utenti quello di avere un linguaggio uguale le implementazioni di questo linguaggio siano compatibili tra i vari browser e sono andati all'ecma e sono fatti standardizzare quella che era la versione 2.0 appunto ecma script adesso siamo alla 4 se non sbaglio questa è la storia al di là della storia tutti continuano a chiamarlo javascript e nelle pagine web si continua a chiamare javascript ma il nome è interessante in sé come faccio a inserire del codice javascript all'interno di una pagina ah tra l'altro scusate altra parentesi ecma script è uno standard è lo standard da cui attinge il web per fare diciamo così le pagine web dinamiche quindi quello che chiamiamo in gergo javascript ma attingono anche altri fornitori altri prodotti per altri scopi ad esempio l'adobe flash con il linguaggio di programmazione di flash che si chiama che loro chiamano action script se qualcuno è già programmato in flash c'è un linguaggio che si chiama action script in realtà non è altro che sempre egma script che loro chiaramente l'hanno inserito dentro il compilatore di flash ha tutta una serie di librerie che sono diverse da quelle del dom perché non gira dentro un browser e gira dentro il flash player ma il linguaggio è lo stesso pesca in realtà pesca dalle versioni più recenti dell'egma script quindi un linguaggio un pochino più robusto per cui alla fine questo linguaggio questo egma script è il risultato molto utilizzato in giro ma noi siamo nel mondo web diretto nel browser come faccio a dire al browser che c'è dentro questa pagina html voglio inserire del codice eseguibile in un linguaggio che non è html beh lo posso fare attraverso un elemento che si chiama script in modo molto banale script barra script il text script ha un attributo type uguale e qui c'è il tipo il man type del file javascript che è text barra javascript se uno vuole fare il purista potrebbe scrivere text barra javascript ma è la stessa cosa quindi si continua a scrivere javascript script barra script qui in mezzo possiamo mettere il codice javascript vero e proprio e le istruzioni no? del codice javascript queste cose qui questa sporcizia che vedete all'inizio della fine in realtà al giorno d'oggi non è più utile non è più necessaria ma fa parte delle acrobazie che dovettero fare i progettisti di javascript quando introdussero il linguaggio per le prime volte perché tu avevi dei browser che non sopportavano ancora allora tra script e barra script se io metto dentro qualche cosa scritto immaginate scrivere un linguaggio un po' di istruzione java lo stesso la sintassi è la stessa che non c'entra niente con l'html per un browser che non riconosceva il tag script cosa faceva? beh un browser che non riconosce questo tag lo cancella lo ignora e però il contenuto di questo codice sarebbe stato interpretato come se fosse html quindi sarebbe stato messo nella pagina e se abbiamo for i uguale a 0 i minore di 10 quel minore lì sarebbe stato interpretato dal browser come l'inizio di un tag disastro no? allora cosa fece i progettisti di javascript dissero va bene ma noi definiamo la sintassi di javascript in modo tale che questo carattere qui sia accettabile non sia un errore di sintassi in javascript quindi un browser che legge che conosce javascript e legge questo ignora questa prima e questa ultima riga anzi quest'ultima riga la ignora perché questo è un commento barra barra è la prima per un'eccezione che hanno inserito nel linguaggio esegue il resto un browser invece che non conosce javascript perché i geologi non esistono più ma all'inizio dovette proporsi questo problema ignora questo tag script che non lo conosce e poi da qui fino qua ciò che vede è un commento html minore punto escalativo trattino trattino è la sintassi dei commenti in html quindi è un gioco di nascondino reciproco se io interpreto javascript non voglio vedere questi commenti questi caratteri strani se io non interpreto javascript non voglio vedere il sorgente javascript in modo che vada bene a tutti al giorno d'oggi non sono più cose che con javascript sia necessario fare ma questo stesso ragionamento si ripete con tutte le innovazioni tutti i tag nuovi i linguaggi nuovi anche quando stanno facendo html5 metà del mal di capo se potessero dire ok da adesso in avanti inventiamo un nuovo linguaggio sarebbe più facile invece devono creare delle pagine che abbiano nuove funzionalità ma che siano lo stesso comprensibili in modo sensato dai browser che non conoscono ancora quelle nuove funzionalità e non è banale questo vabbè l'utilizzo di un tag di questo genere è prende il nome di javascript embedded cioè inserito direttamente dentro la pagina così come facciamo con i fogli di stile possiamo mettere style barra style e via e dentro mettiamo le istruzioni css a noi non piace non piace mai non mescolare le cose noi vogliamo sempre fare riferimento a un file esterno quindi all'interno di una pagina web metterò il tag script type uguale javascript text barra javascript e poi non metto le istruzioni javascript direttamente qua dentro la pagina dentro il corpo del tag script ma con l'attributo source uguale vado a pescare a indicare un file esterno che conterrà le istruzioni javascript che è molto più pulito molto più mantenibile quel file lì una volta caricato la prima volta rimane in cache di fatto non ci sono controindicazioni ma ci sono solo vantaggi e quindi questo è il modo che utilizzeremo usare i file javascript esterni che vengono però richiamati e interpretati come se fossero inseriti in quel punto è una sorta di inclusione includi questo file ed eseguilo e dove lo metto questo tag script? dove lo posso mettere nella mia pagina html che è lunga? lo posso mettere o nella sezione head o dentro il body del documento e in base a che cosa decido? beh decido in base al fatto che le istruzioni javascript che sono scritte dentro dentro il tag oppure nel file esterno vengono lette ed eseguite subito nel momento in cui il file viene letto allora in teoria se io devo scrivere delle istruzioni che modificano o che leggono il contenuto di una pagina non posso metterle prima che il browser l'abbia ricevuta questa pagina e quindi in teoria lo dovrei mettere come ultimissima riga prima del body della chiusura del body in modo che nel frattempo il browser abbia già ricevuto tutto il resto della pagina perché se no non posso andare a cercare l'elemento submit se sono sulla prima riga dell'html l'elemento submit sarà 30 righe dopo e non è ancora arrivato quando eseguo quell'istruzione javascript quel submit non c'è ancora non è ancora arrivato il file viene letto in ordine dalla prima riga in avanti quindi ci verrebbe voglia ma non lo facciamo di mettere lo script al fondo della pagina in realtà non ci piace perché innanzitutto è difficile mantenere come manutenzione ma soprattutto diciamo che ci sono alcune operazioni scopriamo tra un secondo che non vogliamo fare necessariamente quando la pagina viene caricata ma magari le dovremo fare un pochino dopo o perché vuoi che le immagini contenute della pagina nel frattempo non si sono ancora caricate quindi se devo fare un'operazione magari di modifiche di layout che ha bisogno di sapere le dimensioni di un'immagine non mi basta aver finito di leggere html devo aspettare che il browser abbia finito di caricare perlomeno le proprietà dell'immagine quindi non è diciamo di mettere lo script come l'ultima istruzione del body non basta ancora oppure ancora di più è necessario che il codice venga eseguito quando l'utente fa delle cose quindi non quando la pagina è finita allora useremo un metodo più sofisticato attraverso cui decideremo quali procedure javascript richiamare quali metodi associandole a certe azioni a certi eventi che succedono all'interno della pagina quindi questa è la parte se vogliamo più articolata è la programmazione di javascript di una programmazione ad eventi allora la soluzione pratica quale sarà sarà che noi quando scriveremo il javascript di fatto il nostro script non sarà mai fatto di istruzioni da eseguire subito ma sarà fatto di definizioni di tante funzioni o tanti metodi chiamateli come volete tante funzioni che quando io leggo il file javascript vengono semplicemente definite e messe da parte poi verranno richiamate associate ad alcuni eventi che si verificheranno in futuro quindi un file javascript sarà sempre una grossa lunga definizione di funzioni tranne un caso un'eccezione la vediamo dopo e quindi poiché sta solo definendo funzioni non ha bisogno di lavorare direttamente sulla pagina le funzioni verranno richiamate al momento opportuno impostando gli eventi dell'html allora per questo motivo la si preferisce mettere nella sezione head dove richiamo i fogli di stile richiamo anche gli script questo script messo lì sono sicuro che non faccia danni se cerca di fare qualcosa sulla pagina me ne accorgo subito dell'errore perché la pagina non c'è ancora è un modo per proteggermi contro fare le cose nel modo non ortodosso non corretto quindi di questo cosa cosa ci portiamo a casa che tutte le pagine web che vogliono fare qualcosa con il javascript avranno nella pagina nella sezione head l'inclusione di un file esterno con estensione .js cosa ci scriviamo in questo file qual è il linguaggio con cui scriviamo questo file questo file viene letto e eseguito sul momento sul momento in cui la pagina non è ancora stata letta ma fa lo stesso che cosa può fare questo cosa ci può essersi scritto dentro a questo allora io vi faccio adesso una carrellata di flash di frammenti di sorgente javascript non stiamo a fare la sintassi in modo pedante gli operatori punto e virgole eccetera la sintassi del javascript è molto simile la sintassi a livello superficiale come lo scrivo è molto simile a quella di java o a quella di c come linguaggi troverete i doppi apici per fare le stringhe il punto e virgole la presa dell'istruzione le parentesi graffe if, while, for il commento barra barra oppure barra asterisco la sintassi è molto simile quindi la apprendiamo molto facilmente poi ci sarà una serie di oggetti della libreria a base array, string oggetti data eccetera che anche lì sono degli oggetti che sono librerie diverse rispetto a quelle di java ma non c'è nulla da non è nulla di complesso si tratta solo di andare a ricordarsi il nome giusto ciò che è molto diverso invece è la gestione dei tipi di dato degli oggetti javascript è un linguaggio orientato agli oggetti ma è un linguaggio dinamico con quella che si chiama tipizzazione dinamica questo vuol dire che le variabili non hanno un tipo che è un'eresia rispetto a a ciò che facciamo in java java è un linguaggio fortemente tipizzato nel senso che quando definisci una variabile quella lì è un tipo string s quella s è un'istanza quella s è una variabile che può fare riferimento solamente a oggetti di tipo string o sulle sottoclasse quando io definisco una variabile in javascript quella lì è una variabile che può fare riferimento a qualunque tipo di oggetto è un po' come se in java quando definiamo una variabile anziché definirla string definissimo tutto come object la super classe di tutto e poi quel riferimento punta a chi capita magari punta a uno string magari punta a un date magari punta a una connection magari punta a qualche cosa altro non lo so fino a quando non lo eseguo e quindi di fatto il tipo delle variabili cambia mentre il programma va avanti è una cosa molto strana diciamo così per noi che siamo abituati a lavorare in java allora non vi faccio vedere le due istruzioni più semplici di javascript che sono l'alert e il document.write perché sono quelle che vorrebbero modificare direttamente la pagina html e non impariamo neppure a lavorare in questo modo l'alert la usiamo a volte in modalità debug l'alert apre una finestrella sul browser sulla finestra sulle finestre in cui alla fine puoi solamente cliccare ok per scrivere un messaggio lo useremo più avanti quando faremo un po' di debug ma non usiamolo per fare questo esempio vabbè dicevo a livello di flash poi le slide sono qua ma poi ci sono centinaia di tutorial che potete trovare su javascript ma non ci sono molte sorprese i costrutti del linguaggio quindi la if, for e while sono identici a quelli che conoscete in C o in java parentesi graffa gli operatori più, meno per diviso maggiore, minore minore sono gli stessi sono tutti linguaggi che si sono copiati a vicenda alla fine si sono copiati tutti dal linguaggio C ciò che è diverso appunto sono le variabili commenti la stessa sintassi la stessa convenzione di java ecco le variabili invece sono l'eccezione principale allora le variabili si definiscono con la parola chiave var a differenza var x per rifine una variabile a differenza di java in cui quelle x avrei dovuto dichiarare int x oppure string x oppure qualche cosa o double x metto il tipo di dato e il nome della variabile per dichiarare una nuova invece qua var per tutte poi questa stessa x e questo non è un errore il compilatore java si scrive una cosa del genere e ci spara perché se x è un intero non è una stringa e se una stringa non è un intero mentre invece qua x è un riferimento a una variabile che dopo questa prima istruzione punterà a un oggetto di tipo intero e dopo questa seconda istruzione punterà a un oggetto di tipo stringa quindi non potrò mai dire x di che tipo è non vale la domanda la domanda è il valore corrente di x che tipo di oggetto rappresenta o può rappresentare vabbè ci si deve abituare a questo modo diverso di ragionare in realtà ci semplifica di molto la vita perché poi il runtime del linguaggio è capace a fare da solo moltissime conversioni da stringa intera da intero stringa tutte le volte che ce n'è bisogno per cui in realtà significa avere un linguaggio più debole in fase di scrittura o di compilazione non si possono fare molti controlli tutti i controlli sono ritardati a runtime però più semplice più sintetico da scrivere che è adatto a un linguaggio di scripting ce ne accorgeremo anche quando scriveremo javascript che anche l'editor anche netbinx non riesce a fare più di tanto perché pensate quando scrivete in java scrivete s punto se s è una stringa vi da i metodi dell'oggetto string e qua scriviamo var x punto mi da i metodi di quale oggetto che non so di che tipo è x potrebbe essere qualunque oggetto adesso netbinx cerca di indovinare ma non può far altro che cercare di indovinare non si sa che tipo di oggetto verrà memorizzato lì dentro runtime quindi ci abitueremo a compiere purtroppo degli errori di programmazione in cui il compilatore non ci può aiutare non ci può neanche avvertire perché il linguaggio non è abbastanza forte da poter avere a tempo di compilazione questo tipo di controlli e quindi scrivi tutto giusto il compilatore non ti segnala niente in rosso lo fai partire si pianta la seconda riga e poi vai avanti col debug quindi per chi è abituato a lavorare in un ambiente molto protettivo come quello dell'ambiente java le prime volte ti verrebbe da dire parole non troppo gentili nei confronti di chi ha inventato il linguaggio la parola chiave var stessa che introduce una nuova variabile purtroppo per noi è opzionale si può usare una variabile anche senza dichiararla perché quando hanno inventato il linguaggio in fretta e furia non si sono curati di quello non so se qualcuno di voi ha mai toccato il basic come linguaggio di programmazione che nel 1995 era ancora quello più utilizzato e lì le variabili non si dichiaravano hai bisogno di usare x usi x fine l'interprete le dichiarava al momento in cui la vedeva la prima volta e fin lì già a noi non piace perché è una variabile che si chiama pippo se la riscrivo pippo sotto ma con tre p anziché due mi aspetterei e in java sono abituato che lui mi segnali errori dice guarda questa variabile non è definita qua no automaticamente quando arrivo sotto a pippo con tre p crea una nuova variabile la inizializza a zero e usa quella e l'errore non è un errore di sintassi però vai a trovare a trovare questo errore quando ti accorgi che poi il programma fa una cosa diversa perché hai messo una p di troppo è così ma peggio ma è peggio perché quando dichiaro una variabile con var la dichiaro di tipo locale quindi ha lo scopo delle parentesi graffe in cui è dichiarata quando invece lui si autodichiara una variabile senza il var e quindi questo comprende tutti gli errori di battitura dei nomi delle variabili viene dichiarata come variabile globale unica e condivisa tra tutte le funzioni il concetto di variabili globali in java non esiste neanche e quindi se per caso voi scrivete due parti diverse completamente scorrelate nel programma usate una variabile i e dall'altra parte usate una variabile i e vi siete dimenticati di dichiarare var i di qua e var i dall'altra parte queste due i diventano la stessa variabile e quindi modifica una si modifica l'altra perché è sempre solo la stessa solo perché ho dimenticato il var non è un errore di sintassi il compilatore non ce lo segnala quindi vabbè non voglio spaventarvi però bisogna fare molta più attenzione perché molti degli errori che sono errori di programmazione cioè cose sbagliate da fare in realtà non sono errori di sintassi non sono errori del linguaggio e quindi il compilatore non ci aiuta vabbè a parte ho finito di spaventarvi adesso passiamo alle parti costruttive la stessa variabile una volta dichiarata può contenere oggetti può puntare il modello è lo stesso di java un oggetto da qualche parte la variabile non è altro che un riferimento a quell'oggetto che vive indipendentemente dalla variabile che le sta puntando c'è la garbage collection automatica come in java queste sono cose diciamo che ci portiamo in eredità da java la differenza è che la stessa variabile può puntare oggetti di tipo diverso in tempi diversi e il compilatore anzi il compilatore run time cerca di interpretare il contenuto dell'oggetto anche in base al contesto in cui viene utilizzato cioè se io faccio a meno b e a e b sono due variabili quel meno lì è un operatore che si può usare solamente tra valori numerici quindi se per caso a e b in quel momento stanno puntando a oggetti di tipo stringa il compilatore proverà da solo a convertire le stringhe in interi e poi fare la sottrazione e quindi le conversioni stringa numero numero stringa in molti casi sono automatiche non ce ne dobbiamo curare noi quindi il punto to string e l'integr punto parse non esistono in javascript non servono cioè non è vero esistono quando uno lo vuole controllare ma nella maggior parte dei casi sono invocati in modo automatico e vabbè dopodiché fatti questi diciamo così premesse che ci fanno capire attenzione che le variabili in javascript sono ancora diversa dalle variabili in java il resto le usi normalmente assegni di valori usi delle espressioni e che tipi di valori puoi mettere quando dichiari variabili non lo dici però puoi usare valori booleani false true esattamente come in java numeri interi reali stringhe oppure oggetti oggetti veri e per creare il numero di oggetti ecco in java scriveremo date d uguale new date in javascript scriviamo var d uguale new date questo date è un oggetto javascript della libreria standard che definisce una data e se voglio chiamare un metodo su questi oggetti sarà nome del riferimento punto nome del metodo anche qua non c'è nessun controllo di sintassi perché se anziché get hours scrivo get hour perché mi dimentico la s finale il compilatore non se ne può accorgere perché lui potrebbe dire ma d punta un oggetto di quale tipo un oggetto di tipo pinco pallino sconosciuto che ha un metodo che si chiama get hour senza s non posso escludere che esista un tipo di oggetto che abbia quel nome di metodo lì e quindi il compilatore ti lascia passare qualunque cosa tu scrivi poi a tempo di run time quando esegui questo si ferma l'esecuzione ovviamente si interrompe lì è la prima volta che trovi un errore di esecuzione così è vabbè gli operatori sono quelli soliti identici a quelli di java il più si usa sia per fare l'addizione che per la concatenazione di string c'è un operatore di confronto strano che vede se due variabili non sono hanno lo stesso valore ma hanno anche lo stesso valore lo stesso tipo di fatto cosa fa è di inibire le conversioni automatiche di tipo quando io faccio un confronto lui cerca prima di convertirli allo stesso tipo magari se sono un numero una stringa li converte entrambi a stringa e poi confronta nell'altro caso no ma si usa in casi molto limitati and or not vabbè queste sono ci sono dei casi ambigui come questo 3 più 2 fa 5 ma virgolette 3 più virgolette 2 fa 5 oppure fa virgolette 32 in questo caso fa virgolette 32 perché lui prende la stalla più breve senza la conversione però magari 3 è il valore l'altra possibilità è quella di voler convertire 3 in intero 2 in intero e sommare i valori interi corrispondenti questo è l'unico caso in cui è ambiguo questo meccanismo di conversione automatica e allora uno prende un po' per mano il compilatore e fa aperta tonda 3 più 0 si sommo 0 fuori dalle virgolette allora automaticamente me lo converte come intero quindi cerca di riscriverlo in modo che non sia più ambiguo ma sono casi particolari che nella pratica poi difficilmente non si incontra vabbè a parte queste stranezze sui tipi dico che difficilmente si incontrano perché spesso lavoriamo direttamente poi con oggetti non andiamo a fare conticini con le stringhe quasi ma con oggetti del DOM poi vabbè l'if if else identica sintassi rispetto a java switch anche for while do while esattamente identici c'è il break c'è il continue non è cambiato nulla ecco l'unica cosa un po' strana torno solo qua perché c'è degli esempi di nuovo da tenere presente sono i punti virgola punti virgola sono che terminano le istruzioni in javascript sono opzionali e le prime versioni del linguaggio non le avevano e quindi andare a capo voleva dire terminare l'istruzione quindi non posso andare a capo a metà di un'istruzione devo scrivere tutta su una riga perché se vado a capo lui diciamo così in automatico ci aggiunge un punto e virgola invisibile virtuale allora noi arriviamo da una formazione diversa e cerchiamo di scrivere il linguaggio nel modo più pulito possibile quindi non usare tutte queste stranezze o queste comportamenti laschi del linguaggio però ricordiamoci attenzione se abbiamo un'istruzione lunga dobbiamo scriverla comunque su una riga perché se vai a capo lui pensa che l'istruzione sia finita infatti in questi esempi qua dopo il break non c'è il punto e virgola in java se non metti il punto e virgola è un errore di sintassi qua poiché vai a capo puoi anche ometterlo puoi anche dimenticartelo purtroppo e vabbè fin qua è l'aspetto procedurale del linguaggio in javascript si possono definire allora quando definisco degli oggetti definire gli oggetti significa definire le proprietà degli oggetti e i metodi degli oggetti in realtà noi non avremo in quello che faremo noi non avremo praticamente mai bisogno di creare nuovi tipi di oggetti utilizzeremo quelli dell'Iberia quelli del DOM eccetera ma non si definiscono nuove classi javascript è un linguaggio che ha metà tra un linguaggio orientato agli oggetti e un linguaggio procedurale per cui ha sia oggetti dotati di metodi sia funzioni se qualcuno di voi ha già programmato in C o anche in C++ sa che puoi definire delle function funzioni una funzione è un proviamo a traslarlo nel mondo obiettivo oriente ed è un metodo che non è associato a nessuna classe è un metodo indipendente esterno a sé stante quindi e poi però in realtà funziona nello stesso modo nel senso che riceve dei parametri e esegue del codice quindi molto del lavoro in JavaScript si tratta di definire delle funzioni e poi associare queste funzioni ad alcuni eventi che accadono nelle pagine queste funzioni al loro interno tendono a essere nei casi che faremo noi anche relativamente brevi perché dovranno fare due o tre modifiche al volo sugli oggetti della pagina quindi usare oggetti che già esistono senza stare a definirsi nuove classi e poi hanno finito il loro lavoro rispetto alla definizione di un metodo in Java la definizione di una funzione oltre al fatto che non è dentro nessuna class dentro l'istruzione class ma direttamente nel corpo del file i parametri diamo i nomi ai parametri ma non specifichiamo i tipi qui c'è a b c d non c'è int a virgola double b perché i tipi non esistono e così come il valore di ritorno della funzione noi qua scriveremmo void function name oppure string function name in Java qui invece scriviamo solo function se questa funzione ritorna un void ritorna un interno ritorna una stringa ritorna un castello di carte non lo sapremo mai ok? o meglio lo sapremo solamente chiamando la funzione non è dichiarato non è detto da nessuna parte e quindi non so neanche se la funzione farà ritorno oppure non farà l'istruzione ritorno oppure non lo fa perché diciamo così è void si tratta solo di abituarsi e poi c'è il codice che viene eseguito quando la funzione viene chiamata la chiamata della funzione è normale nome della funzione aperta tonda chiusa tonda a differenza di una chiamata di metodo che chiaramente avviene con la sintassi punto e dopo di che ci sono gli oggetti anche qua gli oggetti sono abbastanza simili a quelli di Java anche se ci sono un paio di differenze è un oggetto caratterizzato da tre tipi di voci in Java sono solamente due in Java hai le proprietà e i metodi le variabili di distanza e i metodi le variabili normalmente si rendono private e i metodi quasi sempre si rendono pubblici in JavaScript ci sono tre cose il valore che a questo punto corrisponde alla proprietà degli oggetti Java i metodi e va bene sono le funzioni che posso chiamare solo le istanze di questo oggetto e poi ho delle proprietà proprietà che sono alcuni valori che possono essere gli stessi oppure altri aggiuntivi che possono essere letti o scritti è come se fossero delle variabili accessibili dall'esterno quindi normalmente una classe in Java ha una variabile interna int a tu dall'esterno non puoi scrivere oggetto punto a uguale 3 ma dovrei fare oggetto punto set a di 3 oppure per sapere il valore di a farai oggetto punto get a si può fare anche in JavaScript ma loro qui hanno trovato una scorciatoia quella di rendere degli oggetti alcuni dei valori sotto forma di proprietà accessibili quindi dal punto di vista della sintassi scriverai oggetto punto a non get a e set a poi in pratica lui automaticamente è come se lui automaticamente si generasse dei getter dei setter per le proprietà che dici tu lo vediamo subito su questo esempio esempio sull'oggetti stringa la lunghezza di una stringa si chiama length s punto length in Java la sintassi è s punto length aperta tonda e chiusa tonda perché è una chiamata di metodo che mi restituisce il valore intero che è la lunghezza della stringa in JavaScript length è una proprietà e quindi vedete che punto length senza le parentesi è una proprietà in questo caso in sola lettura cioè io posso leggere questo valore ma non posso modificarlo perché non è perché posso dire a stringa adesso tu sei più lunga stringa è quella che è e quindi questo concetto di proprietà semplifica un po' la sintassi nel senso che alcune volte non dobbiamo mettere delle parentesi aperte e chiuse quando di fatto sarebbero sempre vuote sarebbero sempre inutili e alcune proprietà sono read only alcune sono read write alcune sono write only e questo lo definisce il creatore della classe e se no c'è un modo normale di usare gli oggetti gli oggetti principali quali sono? anche qua facciamo dei flash poi non stiamo a leggere tutti i metodi che sono dichiarati qua l'oggetto stringa che contiene questi metodi prendi un carattere con catena due stringhe fai la ricerca di sotto stringa rimpiazza una stringa con un'altra ricerca caratteri di sotto stringa all'interno di stringhe più lunghe maiuscolo minuscolo insomma metodi non sto a perdere tempo a vederli uno a uno ci sono anche tutta una serie di metodi che sono definiti sull'oggetto standard string che noi non usiamo mai sono metodi che di fatto trasformano la stringa mettendo di davanti e dietro dei tag html quindi se avete una stringa questa qua txt la chiamate il metodo punto bold questo restituisce una nuova stringa in cui mette davanti b e dietro barra b intorno alla stringa questo serviva per facilitare la creazione di frammenti di html dal codice javascript oggi si lavora in modo diverso perché non andiamo quasi mai a mettere il bold il grande il piccolo il colore size font su un html che stiamo generando perché questo lavoro lo fanno i fogli di stile quindi per questo non si usano praticamente più queste cose perché il lavoro lo facciamo direttamente con gli oggetti del DOM e con i fogli di stile è molto più pulito che non andare a mettere in grassetto oppure in corsivo una parola vabbè io qui salto sugli esempi perché voglio arrivare prima a fare qualcosa di utile che già lavori con gli eventi quindi vabbè oggetto date per gestire le date ci sono i metodi per se creo un oggetto new date viene iniziato con la data corrente ci sono tutti i vari metodi per andare a prendere giorno, mese e anno convertirlo in stringa convertirlo in numero di millisecondi e ci sono ovviamente i metodi per impostare questo oggetto data lo facciamo l'anno prossimo facciamo il 3 gennaio 2007 e c'è un oggetto punto parse per prendere una stringa e convertirla in data quindi oggetto string oggetto date c'è l'oggetto array l'oggetto array è molto forte molto carico di significati in javascript perché di fatto comprende in sé tutte le funzionalità degli array in java quindi quelle che finite con le parentesi quadre e in buona parte anche le funzionalità degli array list in java in cui potete aggiungere togliere e ricercare delle operazioni e quindi è un oggetto unico ambiguo perché lo creo come new ma posso accedere anche con le parentesi quadre quindi non devo fare necessariamente a.getdi ma faccio adi tutto questo arriva dall'eridità di un linguaggio di scripting un linguaggio che deve essere trasferito nelle pagine e interpretato al volo quindi la sintassi più è semplice più sarà veloce e facile da interpretare ed eseguire in tempo reale array ecco a differenza di un array list in cui in java quando creo un array list devo dire che tipo di oggetti ci metterò dentro di nuovo qua è un array di oggetti punto quindi posso avere benissimo un array in cui il primo elemento è una stringa il secondo è un intero il terzo è un double il quarto è un booleano il quinto è una data no? addirittura ma questo noi non lo useremo gli indici dell'array normalmente sono numerici partono da zero ma possono anche essere letterali in questo caso si usa sintassi punto e non sintassi quadra diciamo così il cuore del linguaggio è un linguaggio in cui di fatto gli oggetti stessi sono array che contengono le loro stesse proprietà quindi la reflection è fatta con gli array ma non non avremo mai bisogno di toccare questo aspetto quindi non vi complico la vita e ci sono anche dei metodi che agiscono sugli array quindi concatenare due array estrarre un sotto insieme di elementi di un array esistente mettere in ordine alfabetico e questi due sono utili invece li troveremo li useremo più volte che sono le conversioni da stringa da array da array a stringa quindi se ho una stringa che contiene tanti campi ad esempio di questo tipo separati da virgola io su questa stringa posso chiamare metodo split spiegandogli qual è il carattere separatore e lui mi restituisce un array avendo separato i vari campi join fa il contrario prendo un array e concatena tutti i valori dell'array in un'unica stringa usando il carattere separatore che gli dico io oppure la virgola se non ne vedo nessuno in particolare questo lo useremo di più alla fine della settimana prossima quando faremo interazione asincrone per cui la pagina dovrà chiedere al server delle informazioni il server li restituisce sotto forma di stringa e il browser ha bisogno di spacchettare questa stringa per andare a prendere i singoli valori quindi join e split sono un metodo da tenere da conto vabbè poi c'è un oggetto che esiste si può usare ma contiene delle costanti matematiche o delle funzioni matematiche sono tutti metodi statici questi è raro che in una pagina web si debbano fare dei calcoli matematici osservare il valore di pi greco quindi non ci però c'è questi magari un pochino di più fare il massimo minimo arrotondamenti di valori se dobbiamo fare qualche piccolo calcolo lo possiamo fare oppure estrarre valori casuali se mettiamo un gioco tante volte il giochino bisogna estrarre un valore casuale e questi sono gli oggetti principali quattro oggetti principali della libreria Java con questo riusciremo a scrivere dei programmini inutili semplici inutili nel senso che fanno cose banali ma il problema è quello di abbiamo detto un programma javascript non ha la possibilità di ricevere dei dati dalla tastiera o di disegnare direttamente sul video può lavorare solamente interagendo col DOM e come? facendosi richiamare delle funzioni quando nel DOM o nella pagina web capitano certi eventi quindi noi abbiamo un file javascript che contiene tante function diciamo beh quella funzione lì voglio che sia generata quando che sia richiamata quando succede una certa cosa io vi faccio vedere un esempio che poi cerchiamo di costruire insieme non vi faccio vedere il sorgente ma prima pagina di esempio è questo l'ho chiamata calcolatrice in modo composo parte da uno zero c'è una scritta incrementa e fin qua lo sapete fare è un input con dentro con un testo scritto sotto ma se io clicco su incrementa lo zero diventa uno incrementa non è un link non è un bottone semplicemente un pezzo di pagina del testo tutte le volte che ci clicco sopra quel numero si incrementa allora cosa sta succedendo in qualche modo una mia azione sulla pagina cioè cliccare in quel punto in cui nessuno sarebbe venuto in mente di cliccare la parola incrementa viene in questa azione viene intercettata sotto forma di evento è successa una cosa l'utente ha cliccato dove? lì ma se io clicco qua non capita quindi un evento è associato a un'azione dell'utente su un qualche elemento specifico della pagina l'azione è il click l'elemento è la parola incrementa a questo evento associato su questa quando è attivato l'evento del click attivato sulla parola incrementa sarà associata una funzione javascript che ho scritto prima di venire qua e questa funzione javascript una volta che è richiamata fa un po' ciò che vuole in particolare ciò che fa di andare a prendere un valore che è all'interno di un altro elemento perché io ho cliccato su incrementa ma il valore che viene cambiato è quello della casella di input quindi non c'entrano niente quindi può fare ciò che vuole e va a modificare in questo caso in modo visibile il valore di un altro elemento anziché il valore dell'input potrebbe essere la proprietà display di un elemento quindi me lo mostra o me lo nasconde cioè può fare ciò che vuole quindi noi abbiamo bisogno ci mancano ancora queste due informazioni la prima è quali sono gli eventi a cui mi posso agganciare quali sono gli eventi ai quali posso voler associare una funzione javascript che poi farà qualche cosa e poi il problema più complicato che lo vediamo nella seconda ora è ok una volta che la funzione è stata attivata cosa fa? cosa fa? agisce con gli oggetti del DOM ok dobbiamo andare a vedere quali sono questi oggetti del DOM come fa a trovare l'oggetto come fa a modificarlo eccetera allora partiamo dalla prima parte che è più facile quali sono gli eventi sono questi scusate ci sono una slide che ho messo nel posto sbagliato eccoli qua tutte le volte che noi che noi respiriamo vicino a un browser schiacciamo un tasto clicchiamo spostiamo anche se lo spostiamo il mouse su una finestra del browser il browser a seguito delle nostre azioni spara tonnellate di eventi la maggior parte dei quali cadranno nel nulla perché non ci sarà nessuno che li ascolta ma lui li spara comunque almeno concettualmente poi per ottimizzazione non lo fanno ogni elemento della pagina html ogni la pagina stessa il titolo la casella di input questo testo genera eventi ogni volta che ci clicco sopra lo seleziono scrivo qualcosa con la tastiera eccetera se ci sono dei layout complicati in cui ho molti elementi annidati uno dentro l'altro se io faccio qualcosa all'elemento più interno in realtà sarà lui ma anche tutti quelli che lo contengono a generare l'evento del tipo qualcuno ha cliccato al mio interno quindi veramente ci sono migliaia di eventi che vengono generati da chi? ci sono alcuni eventi che vengono generati da tutti gli elementi dell'html ogni elemento dell'html quando io sposto il mouse quando io agisco col mouse in un'area ricordate che gli elementi dell'html hanno un box sempre dopo che ho fatto il layout quindi quando io sono su un certo punto della pagina il punto su cui sono è all'interno di un box dell'elemento più vicino che lo contiene ma poi anche nel box del padre del padre del padre eccetera eccetera quindi quando io clicco in un punto sto in realtà bucando tutti gli elementi il cui box quello dei CSS di cui abbiamo parlato prima delle vacanze diciamo il cui box contengono quel punto lì su cui ho cliccato e tutti questi elementi spareranno un evento poi bisogna capire se c'è una funzione che è in ascolto su quell'evento specifico da parte di almeno uno di quei box quali sono gli eventi beh gli eventi che posso ordinare col mouse sono il click il doppio click mouse down cioè premo il tasto del mouse poi lo tengo premuto e un down quando lo lascio andare c'è un mouse up se premo e lascio andare di fatto il click genera tre eventi ogni volta che faccio click genera un mouse down poi subito dopo quando lo lascio andare mouse up e immediatamente mouse click on click down up click tutte le volte che clicco sono tre eventi da parte di tutti gli elementi html su cui sono il click è un'utilità che conosciamo il down e l'up servono ad esempio se pensate le pagine web in cui posso fare drag and drop di elementi quindi faccio il down su un elemento e quindi quell'elemento lo sa che l'ho preso tra virgolette quindi quando sposterò il mouse col tasto premuto oppure non premuto generò in realtà degli altri eventi che si chiamano il mouse move e quindi ogni volta che sposto il mouse tutti gli elementi su cui passo in questo caso è il body perché non c'è altro ma qui questa parola qui questo elemento di input generano degli eventi mouse move guarda che il mouse all'interno della mia area si è spostato oppure più interessanti sono il mouse over e il mouse out il mouse over significa che il mouse è entrato nella mia area il mouse out viene un evento che viene generato quando il mouse esce dalla mia area è lo stesso concetto che abbiamo già usato con l'attributo due punti hover con l'h davanti questa volta qui l'h non c'è occhio agli errori di sintassi in ECSS quando il mouse è sopra quell'elemento ecco quando c'è c'entro genera l'elemento mouse over quando c'è quando il mouse viene spostato ed esce genera l'evento mouse out e quindi possiamo usarlo per evidenziare delle cose nel momento in cui ci sono ci passo sopra col mouse stessa cosa sulla tastiera ogni volta che premo un tasto schiaccio la lettera F vengono generati tre eventi un key down nel momento in cui premo il tasto quando lascio andare key up e subito dopo key press key press vuol dire una pressione di tasto completa composta da un down e un up normalmente ci serve il key press ma se stiamo facendo dei giochini dei video giochini ci serve separare il down dall'up perché sono azioni che ci interessano e questo avviene da parte di tutti gli elementi non sono solamente caselle di input che ci dicono se l'utente ha premuto qualcosa se io sono su una pagina su un testo ho il cursore qui e scrivo non succede nulla però questi eventi dei tasti che ho premuto vengono comunque generati nessuno li raccoglie e vengono perse poi ci sono alcuni invece eventi più specifici che sono associati alle cose che l'utente può fare con gli elementi dei form quindi gli elementi input di fatto stiamo parlando di form input textarea select e basta questi quattro elementi qui oltre a generare tutti gli eventi legati al mouse legati alla tastiera che abbiamo detto prima generano anche degli eventi in più on submit quando il form viene inviato sta per essere inviato on submit viene generato quando l'utente clicca sul bottone di invio oppure clicca sul tasto di invio batte enter batte invio quando è sull'ultimo campo di testo tante volte sui form puoi scrivere i campi invio vengono inviati da soli non sei obbligato a premere il mouse e quindi qui viene intercettata l'azione in cui l'utente chiede di inviare il form on change è quando il contenuto di un campo del form viene modificato se l'utente entra in una casola di testo la modifica e poi esce dalla casola di testo nel momento in cui l'utente esce da quella casola di testo viene generato l'evento on change guarda che l'utente ha cambiato qualcosa e quindi se dovevi validarlo se hai un algoritmo di validazione di quel contenuto fallo girare di nuovo perché è cambiato nel frattempo e poi ci sono gli altri due eventi che si usano spesso sono il focus e il blur il focus significa un elemento acquisisce e guadagna il focus cioè l'utente c'è entrato dentro col mouse con la tastiera col cursore quindi quando io clicco dentro una casola di testo questa casola di testo assume il focus l'attenzione dell'utente quindi nel momento in cui ci entro on focus quando ci esco e quindi presumibilmente magari batto il tasto di tabulazione passa da una casella a quella successiva perde il focus la prima casella e lo acquisisce la seconda quando una casella perde il focus genera un evento on blur che è un gioco di parole in realtà la parola blur perché il focus noi lo intendiamo come la casella l'attenzione dell'utente blur vuol dire sfocato in linguaggio fotografico quindi perdere il focus dice ma io divento sfocato in realtà è un gioco di parole sul doppio significato della parola focus che può voler dire attenzione oppure messa a fuoco è rimasto così come terminologia e va bene e poi ci sono due eventi speciali di cui il primo ci interessa molto che vengono emessi solamente dal capo di tutti che è l'elemento body on load è l'evento che lui spara quando ha finito di caricarsi cioè quando il browser ha finito di caricare la pagina l'elemento body dice ok abbiamo finito e spara un evento di tipo on load come si fa a dire vado a prendere l'altra pagina a dire ad associare a un certo evento una funzione che si è in grado di gestirla ecco questa per fortuna è la cosa più facile di tutte le cose che vi devo raccontare oggi è semplicemente si aggiunge all'elemento qui dentro l'html qualunque esso sia l'attributo che specifica l'evento che voglio intercettare on click voglio fare qualcosa quando l'utente fa click su questo bottone e fare che cosa? tra virgolette metto il nome della funzione javascript che voglio richiamare quindi in questo caso questa pagina web creerà un bottone e quando viene cliccato questo bottone genera l'evento click questo attributo on click associa all'evento click non qualsiasi ma l'evento click generato da questa casella di input associa la chiamata della funzione javascript che si chiama saluta nel mio file javascript avevo definito una funzione saluta function saluta senza parametri che dentro non faceva altro che aprire un alert una finestra di errore con sito dentro ciao quindi quando l'utente clicca su quel bottone si apre quella finestra allora io direi che possiamo ripartire da qui cominciando a creare una prima pagina adesso facciamo una pausa poi creiamo una prima pagina che riproduca questo comportamento magari non col bottone ma col sia già la pagina simile a questa che è una cartella di testo e una parolina e noi cerchiamo di associare al click di questa parolina non ancora l'incremento perché quello dobbiamo imparare a farlo ma un alert una finestra di dialogo che mi dica ok hai cliccato hai e mi hai fatto male per riuscire a intercettare gli eventi poi impareremo il DOM per riuscire a fare qualcosa di utile che non sia semplicemente stampare un messaggio d'errore ma modificare i contenuti della pagina ok quindi il primo obiettivo per chi torna presto dall'intervallo è creare una pagina uguale a questa in cui cliccando su incrementa si apre un alert con scritto hai cliccato e poi da lì andiamo avanti adesso facciamo dunque fino a riprendiamo l'una ai 25 20 minuti ha a Grazie.